Tra i certificati Turbo Long fondamentalmente c'è un'ampia scelta, ci sono 7-8 prodotti con questo sottostante in questo momento e ogni sottostante ha un livello di rischio diverso. Il vantaggio in questi casi è proprio che l'investitore in base a quella che è la strategia operativa, il proprio grado di rischio, la propria tolleranza rischio può andare a lavorare con una leva più o meno alta, può andare ad esempio a utilizzare, sto guardando in questo momento in sfondo sul mio monitor, non so se l'avete in sfondo anche voi, magari lo possiamo condividere insieme. C'era una leva del 4%, adesso li andiamo a vedere, insieme così esatto, se li ordiniamo per leva ad esempio in modo tale che abbiamo dal più piccolo al più ampio, ecco esatto stavo guardando questa immagine, abbiamo vedete il prodotto più conservativo è quello con leva 4 fondamentalmente, vedete quindi a una distanza dall'evento knockout del 22, quasi 23%, quindi quello più distante dal verificarsi, mentre ad esempio se un investitore è molto più aggressivo, ha una view fortemente rialzista sul titolo, in ottica di breve periodo, ecco che sicuramente magari la scelta opposta del 12 fondamentalmente come leva è senz'altro più appropriata. Ora una leva 12 mi sembra un po' elevato, magari sentiamo anche il punto di vista di Pierre, però il dato è che fondamentalmente un investitore vedete ha molte frecce nel proprio arco, quindi può scegliere quella che è la soluzione più efficiente per il suo caso specifico e questo è il grande vantaggio fondamentalmente, l'ampiezza di selezione, cioè cercare lo strumento più efficiente per la propria operatività e per il caso specifico.